Allora, cominciamo con Elisabetta Pellegrini, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Naturalmente poi quando scenderà dal palco troverà tutti che le chiederanno, numeri di telefono, indirizzi mail. È tutto sul sito. È tutto sul sito. Così me la sono già cavata. Potete scrivere, avrete risposta. Allora, cominciamo con il punto tecnico e, come dire, uno sguardo sullo stato di attuazione dei progetti per la mobilità. Prego. Allora, avevo portato, non so se riescono a mandare, ma parlo lo stesso. Allora, io ho fatto un punto tecnico sulle risorse che il Ministero ha destinato a questa parte di investimenti. Ho visto che, peraltro, nel filmato iniziale qualcosa era già riportato, per cui magari scorro un po' velocemente e poi vado un po' più invece, mi soffermo un po' di più su alcune riflessioni per quello che ci aspettiamo per il futuro da questi investimenti e anche quello che probabilmente ci sarà da prepararsi a fare sia come amministrazioni centrali che come comune. Allora, in totale noi abbiamo, per la missione 2, componente 2 del PNRR, cioè rivoluzione verde, transizione ecologica, 8 miliardi di euro di investimenti in ambito urbano per il MIT. E questi sono stati declinati per circa 200 milioni di euro per lo sviluppo della mobilità ciclistica, 3,6 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali, per lo sviluppo del sistema di trasporto rapido di massa, quindi metropolitane, tramvie, corridoi, bus rapid transit, eccetera, e 3,3 miliardi di euro per il rinnovo del parco autobus, della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli sostenibili e incentivi alla filiera della mobilità sostenibile. Infine, circa 900 milioni di euro per l'incremento della sicurezza e della capacità del trasporto pubblico ferroviario regionale. Lo stato di attuazione del PNRR... Scusa, se vuole poi mandare avanti le slide... Se riusciamo, se no andiamo avanti comunque. Non pensavo la freccia... Deve andare indietro? No. Questa qui la slide? Sì, ok. Se no andiamo avanti tranquillamente. Perfetto. Lo stato di attuazione... E le vede davanti a lei. Perfetto. Se uno ci arrivasse, perché come dice Saini, servono gli occhiali dopo i 50 anni. Allora, lo stato di attuazione degli investimenti del PNRR... In ambito urbano, ovviamente dipende da target e milestone raggiunti. Nel 2021 c'è stato il supporto alla filiera produttiva di basse elettrici, che sapete ha avuto anche qualche problema organizzativo anche solo nell'ambito industriale. Il 30 giugno del 2023 invece c'è stata la giudicazione degli appalti per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale. Vorrei fare un richiamo anche su alcuni vincoli che sono importanti perché devono essere assolutamente rispettati relativi al tipi di finanziamento PNRR e poi a due principali criteri che sono stati utilizzati per la distribuzione delle risorse. I vincoli credo che ai più siano noti, però è l'ultimazione dei lavori ovviamente entro il giugno 26. Il rispetto delle scadenze concordate per milestone e target, che cambiano ovviamente in maniera diversa rispetto alle misure. Il rispetto del principio del DNSH che ha creato qualche problema di interpretazione inizialmente negli enti locali ma che è stato direi anche brillantemente superato e che ha contribuito anche a creare una cultura amministrativa anche in questo campo un po' più vicina all'Europa, anche dei piccoli comuni e lo dico con soddisfazione perché ho lavorato nei comuni e quindi mi sento parte anche di questa parte di architettura amministrativa importante. Poi l'assegnazione del 40% delle risorse al sud, altro importante termine che deve essere rispettato anche in una possibile rimodulazione e altri principi di trasversalità e quindi parità di genere, generazione eccetera. I criteri principali sono stati la massimizzazione dell'impatto economico, sociale e ambientale tenendo conto dell'intero ciclo di vita, l'incremento della resilienza a fronte di disastri naturali e di altri rischi che abbiamo visto anche ultimamente, parlo del rischio idrico, ci occupano particolarmente e l'attenzione alla dimensione sociale e all'investimento. Lo stato di attuazione l'abbiamo già visto, andiamo ai singoli obiettivi, velocemente dicembre 23, aggiudicazione di tutti gli appalti riguardanti il rafforzamento della mobilità ciclistica, è un obiettivo della misura volto a facilitare e promuovere lo sviluppo delle reti ciclabili in ambito urbano, quindi per i percorsi casa scuola, casa lavoro, diversi da quelli delle piste ciclabili destinate ai grandi percorsi turistici assegnati ad enti di area vasta. Nel dicembre 23 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane dovranno essere appaltati e nel giugno 26 avremo 300 in totale, 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane. Per il trasporto rapido di massa abbiamo al 23 l'aggiudicazione di tutti gli appalti, dicembre 23, qualcuno è già, come ha citato il ministro Salvini, già avanti, ha già provveduto, in alcuni casi nella maggior parte sono in fase di pubblicazione. A settembre 24 dobbiamo avere i 25 km di infrastrutture per il TRM e al 26 giugno 206 km di infrastrutture sempre per il TRM. Rinnovo del parco autobus al giugno-dicembre 23 l'aggiudicazione, come sempre, al 24-25 nuovi treni, al 26-150 nuovi treni, l'incremento della sicurezza e capacità del trasporto ferroviario a giugno 26-680 km di linee ferroviarie migliorate e credo poi che qualche collega in questo senso andrà a definire questi risultati che sono attesi. Da questo che cosa ci aspettiamo? In parte credo che abbiamo già ottenuto un risultato che è il cambiamento di cultura perché abbiamo visto un intensificare di lavoro da parte dei comuni per quanto riguarda i PUMS quindi si è creata un'ulteriore sensibilizzazione. Direi che almeno il 70% dei comuni oggi è dotato, si sta dotando di PUMS. Un risultato non scontato considerato che solo qualche anno fa questo era ritenuto un documento abbastanza non significativo. L'ulteriore passo che dovremo fare, che credo dovremo aiutarci tutti a fare è abbiamo con questi fondi realizzato o realizzeremo nuove infrastrutture, nuovi mezzi, dobbiamo puntare ora a una corretta programmazione di nuovi servizi per utilizzare a pieno e meglio questo patrimonio che ci stiamo creando e soprattutto anche la parte di manutenzione. Grazie, grazie Elisabetta Pellegrini. Naturalmente gli investimenti poi producono o devono produrre anche nuove modalità di gestione oltre che nuovi impegni anche finanziari nella gestione. Dobbiamo correre un po' perché siamo un po' in ritardo e il cronoprogramma di questa mattina è sfidante quindi chiedo a Giada Maio e agli altri redattori di darmi un aiuto. Con Giada Maio vediamo l'attuazione dal punto di vista dell'ACI. Prego. Grazie. Allora, telegraficamente al netto di quello che è stato ad oggi prima di me rappresentato benissimo vorrei focalizzarmi su quali sono gli ambiti su cui riteniamo importante continuare a lavorare insieme come diceva poco fa la dottoressa Pellegrini e su cui indirizzare maggiormente attenzione, risorse e politiche pubbliche per partire dalle misure PNRR, trasporto rapido di massa, cantieri importanti quindi target e tempi sfidanti, sono chilometri di trasporto che hanno un valore enorme, sono più costosi ma cambiano l'appeal del trasporto pubblico locale e cambiano la velocità di spostamento nelle città, dotazioni di risorse maggiori da nord a sud per tutti i cittadini quindi incrementiamole anche per tutelare questi investimenti e diamo maggiore attenzione ai target, ai criteri per le città medie in questo caso, ciclabilità molto brevemente benissimo, le infrastrutture lavoriamo di più sui servizi e sulla domanda, ricambio bus non dimentichiamo la connessione fondamentale con tutte le misure che anche sul PNRR transitano sulla produzione d'energia perché quella è la filiera, la politica industriale che impatta sui territori e che orienta le scelte di investimento da qua a 15-30 anni sul rinnovo del parco mezzi e non ci dimentichiamo anche se è un segmento molto limitato degli scuolabus, il driver mobilità scolastica è un driver culturale fondamentale per cambiare l'approccio dei cittadini, non dimentichiamo anche che la sfida vera e lo diceva poco fa la collega è proprio lavorare, la sfida per i comuni sarà lavorare sul servizio TPL che consideriamo l'ossatura della mobilità urbana e quindi sul modello, sulle gare, sull'innovazione del servizio, sulla flessibilità e qua vengo a una misura che non è in gestione Ministero dei Trasporti ma è una misura che punta alla digitalizzazione che è quella del MAS, è una mobility service, lo dicevano nel video, è una misura trasversale importantissima sebbene molto limitata finanziariamente, da lì passa, è un tema politico forte per noi, da lì passa la messa a terra e anche la sperimentazione se vogliamo proprio della sostenibilità del tempo dei modelli innovativi di servizio di trasporto, dell'integrazione e dell'interoperabilità, le città ci stanno lavorando tutte quindi superiamola alla sperimentazione di alcune città ed è necessario assolutamente puntare oggi sulla risposta dei cittadini perché è la misura che ha più velocità di risposta ed efficacia proprio del modo in cui oggi quotidianamente il cittadino orienta la propria abitudine di spostamento. Grazie, grazie Giada Maio, sì il tema delle abitudini e della cultura del trasporto è fondamentale, il tema degli scuola Busan che lo penso tutte le mattine di fronte a un asilo nido della Nomentana dove ci arrampichiamo auto su auto, andiamo sui singoli progetti, cominciamo dall'Aquila, Pierluigi Piondi il sindaco, saluto e ringrazio, cosa succede e soprattutto come sta andando? Grazie, sta andando bene, abbastanza diciamo così, allora io partirei da un concetto generale, io credo che nella qualità dei servizi pubblici assicurati ai cittadini dovremmo introdurre il concetto dei livelli essenziali di trasporto, cioè io ritengo che insieme alla sanità e l'istruzione che sono i due grandi punti di riferimento della qualità dei territori andrebbe inserito quello della mobilità e perché lo dico? Perché è un tema che oggi va affrontato soprattutto alla luce di una questione che è la questione delle aree interne, esattamente 150 anni fa l'onorevole Antonio Biglia introdusse nel dibattito parlamentare la questione meridionale, oggi c'è una questione aree interne che va affrontato con particolare riferimento al ruolo delle città medie che siano in grado di superare la visione romantico, museale, barchiana del tema delle aree interne. All'Aquila naturalmente questo dibattito è accelerato perché l'Aquila è una città che si trasforma molto più velocemente delle altre per contingenze legate evidentemente al tema del terremoto, ai cambiamenti che ci sono già dal punto di vista di dove si colloca la popolazione che si trasforma continuamente e anche la ricollocazione delle funzioni dalle scuole agli uffici pubblici passando per tutta un'altra serie di necessità che fanno riferimento alla mobilità post-sisma. Da questo punto di vista l'Aquila diciamo che abbiamo anticipato dei temi, la mobilità sostenibile e la sua cugina di primo grado che è la transizione ecologica, sono temi che prima che diventassero di moda avevamo già affrontato per cui l'Aquila è uno di quei tanti comuni fortunatamente che si è dotato in anticipo di un piano urbano della mobilità sostenibile e che sta lavorando affinché a quel piano si dia attuazione perché poi di piani ne abbiamo tanti calati nella realtà, diventa molto più difficile. Diventa più difficile perché c'è una carenza infrastrutturale importante, l'Italia, l'Italia delle aree interne ha bisogno di una cura del ferro fondamentale e se non c'è le ferrovie non c'è l'intermodalità e non c'è l'accessibilità alle città, c'è la necessità che il dibattito sul trasporto pubblico locale scavalli il perimetro delle aree metropolitane a cui oggi sembra esclusivamente riservato e lo dico anche con una punta polemica anche interna all'associazione a cui tutti noi aderiamo c'è la necessità di semplificare anche le procedure di approvvigionamento di tutto quello che serve per la transizione ecologica. All'Aquila ci abbiamo provato, avevamo uno dei parchi mezzi più vecchi d'Italia sul trasporto pubblico locale, abbiamo iniziato investendo 9 milioni di euro, ne sono arrivati 12 col PNRR per cui avremo, abbiamo già, ma avremo un parco mezzi tra i più giovani d'Italia e sotto sicuramente la media europea in una città ruvida e fredda come l'Aquila. Siamo riusciti ad introdurre il tema della mobilità dolce attraverso i finanziamenti per bici elettriche ed auto elettriche, abbiamo oltre 1700 domande con un investimento importante. Più in generale, e chiudo perché il tempo sta per scadere, credo che il tema della mobilità vado affrontato a 360 gradi, non lasciando le città ad auto-organizzarsi senza guardare a quello che succede altrove. Grazie, grazie Sindaco. Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Ferrovie, lo dicono i numeri del PNRR, il ruolo centrale che hanno, il ruolo anche nelle città, come diceva adesso il Sindaco, ma anche all'interno di un piano industriale, come dire, centrale per il quadro degli investimenti, qual è lo stato dell'arte? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Provo a toccare dei flash che con parole chiavi ho sentito nei primi interventi i finanziamenti, l'energia, la sostenibilità della mobilità, l'accessibilità nelle aree interne e provo a dare uno spaccato di come il gruppo Ferrovie dello Stato sta intervenendo per cercare di dare una mano a tutti i comuni e soprattutto dare una mano al paese per realizzare opere che diano la possibilità di viaggiare sia per le merci che alle persone in maniera sempre più adeguata dal punto di vista ambientale. Devo ringraziare i ministeri competenti, in particolare il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ministro, devo ringraziare l'ingegner Pellegrini che davvero in questi ultimi mesi hanno dato una mano fortissima in termini di credibilità, di fiducia al gruppo Ferrovie dello Stato e di finanziamenti che stanno arrivando. Per dare qualche numero di come ci stiamo muovendo sulle infrastrutture e sui servizi il gruppo Ferrovie dello Stato nei prossimi dieci anni spenderà 190 miliardi di euro di cui 160 miliardi dedicati alle infrastrutture, 110 miliardi rete ferroviaria italiana quindi infrastrutture ferroviarie, 50 miliardi ANAS quelle stradali, 30 miliardi dedicati ai servizi, servizi di mobilità per le persone Trenitalia, per le merci il polo Mercitalia e ovviamente per la ricucitura delle aree urbane nelle città. Ecco la sintesi che abbiamo fatto per governare tutti questi processi in Ferrovie è stata quella di dare una governance su quattro poli, polo infrastrutture che quindi è deputato a realizzare le infrastrutture ferroviarie stradali, polo passeggeri, treni Italia e bus Italia per muovere le persone, polo merci per dedicarsi e focalizzarsi sulle merci, polo urbano una nascita, una novità è quello che si deve interfacciare con le città ed è il polo che è rappresentato dalla mia società FS Sistemi Urbani ed è il polo che in un qualche modo deve rimettere a disposizione delle città quelle aree che non sono più utilizzate dai treni, pensate ai vecchi scali e deve cercare di metterle a disposizione della città per fare cosa? E qui vengo al sindaco Biondi dell'Aquila, per cercare di realizzare quella intermodalità, per cercare di ricucire quelle due parti fratturate dalla presenza delle ferrovie che dividono i quartieri e la città in due e per cercare quindi di aiutare le persone, convincere le persone a scendere dall'auto e prendere il treno, il treno è il mezzo di trasporto più sostenibile dal punto di vista ambientale e ci interesseremo anche in quelle aree della logistica di prima e ultimo miglio, ecco che il polo urbano diventa centrale a questo punto per i comuni, per le città e devo dire con esempi che adesso qualcuno lo farò, stiamo cercando di non solo pianificare e progettare interventi di questo genere, stiamo addirittura lavorando insieme ai comuni e in alcuni comuni abbiamo iniziato delle opere, ne cito qualcuno, il sindaco Davide Calimberti della città di Varese da qualche anno stiamo lavorando insieme alla città e la stazione di Varese che in un qualche modo è duplice dal punto di vista ferroviario perché c'è Ferrovie Nord Milano, un gestore dell'infrastruttura regionale, Rete Ferroviaria Italiana, un altro gestore dell'infrastruttura a livello nazionale, le due stazioni da qualche anno le abbiamo praticamente unite in modo tale che inizia ad aversi una intermodalità, uno scambio diretto delle persone tra le due stazioni, in più abbiamo trasformato e riqualificato la stazione di Varese puntando ovviamente alla bellezza certamente di ciò che andiamo a fare in termini di restyling, soprattutto alla funzionalità, realizzare una easy smart station, cioè realizzare una stazione che sia idonea ad essere utilizzata da ogni tipo di persona anche a quelle ridotte mobilità e quindi uno deve poter accedere dalla piazza della città al treno in maniera autonoma e lo stiamo facendo e l'abbiamo fatto, in più col sindaco attuale stiamo lavorando su una visione innovativa, cercare di trasformare la città di Varese in un hub di mobilità sempre più innovativa dove si scambiano diverse modalità di trasporto, il gomma, il ferro, lo sharing e stiamo anche sognando qualche cosa di più che prima o poi con un protocollo che dobbiamo sottoscrivere metteremo alla luce. Cito anche Bari perché Bari in un qualche modo rappresentata dal Presidente Anci è stato molto brava la città e il Presidente a raccogliere un finanziamento del PNRR per ricucire la stazione di Bari Centrale, insieme al gruppo Ferrovie stiamo realizzando la progettazione e tra un po' iniziano i lavori per restituire alla città una ricucitura, quindi abbattere quella barriera e soprattutto restituire le aree con funzioni disponibili alla città oltre che alla mobilità. Grazie, grazie, grazie. In modo del tutto casuale abbiamo qui a fianco a me il Sindaco di Varese Davide Calimberti a cui cedo la parola per continuare lato amministrazione locale questo quadro. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto riprendo alcuni concetti del Sindaco dell'Aquila. È un momento molto particolare per il tema della mobilità rapportato alle città medie. Ha ragione quando dice che fino ad oggi c'è stata una grande attenzione quasi esclusiva attorno alle aree metropolitane ma questa stagione che stiamo vivendo avendo ascoltato anche le parole dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato evidenzia come sia cambiata grazie al PNRR, grazie alla necessità di pensare al futuro e come impiegare al meglio queste risorse il ruolo delle città intermedie rispetto alla mobilità. Quindi penso che al di là delle risorse che sono straordinariamente importante questo momento storico ci consente anche alle città medie di fare delle riflessioni più ampie, parlare di mobilità non solo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, cioè il sistema urbano della mobilità, i trasporti scolastici, ma invece guardare come le nostre città medie si connettono a aeroporti internazionali a pochi chilometri di distanza, alle reti ferroviarie all'alta velocità e per quanto riguarda il territorio della città di Varese anche sull'area trasfrontaliera. Quindi un'occasione metodologica straordinaria che consente soprattutto di fare una cosa che è la rigenerazione urbana. Noi nei nostri vari progetti abbiamo cercato di sfruttare queste risorse per connettere una serie di altri interventi che erano stati finanziati in passato, penso al bando periferie, penso a altri progetti di rigenerazione perché è indubbio che con il potenziamento, il miglioramento delle connessioni e della mobilità sono possibili delle opere di rigenerazione in pezzi di città che fino a poco tempo fa era impensabile anche trasformare e quindi le piste ciclabili che connettono i centri cittadini con le aree universitarie o più periferiche sono un'occasione lungo quei tratti di accelerare dei percorsi di rigenerazione e anche per abituare i nostri cittadini a utilizzare in maniera più efficiente come avviene nelle aree metropolitane anche il mezzo pubblico. Devo dire che nella nostra realtà c'è stato un incremento ovviamente a parte il covid dell'utilizzo del mezzo pubblico e sono convinto che attraverso queste iniziative che vanno a migliorare gli autobus e quindi acquistare autobus elettrici e quindi sostenibili e creare dei percorsi ancora più efficienti in termini di rapidità dei collegamenti più significativi dei territori aumenterà all'utilizzo di un di un mezzo che è fondamentale. Ma sottolineo la necessità e la cosa forse più bella il fatto che anche nelle città medie si dialoga rispetto alle prospettive della mobilità con tutti i player più importanti che in quel territorio discutono e affrontano i temi della mobilità. Ecco questo penso sia un passo e un cambio radicale rispetto all'approccio della pianificazione e dello sviluppo di un territorio. Grazie, grazie Sindaco. In effetti in pochi settori come la mobilità, la disponibilità infrastrutturale di un sistema integrato è in grado di cambiare le abitudini di spostamento e di vita all'interno delle città e fra le città. Carlo Masci, Sindaco di Pescara, proprio in questa chiave ha delle cose da dirci. Prego. Sì, grazie. Intanto ringrazio il Presidente De Caro e il Vice Presidente Pella per aver organizzato questa iniziativa che mette a confronto i sindaci anche nel confronto con i ministri perché è fondamentale oggi parlarci perché il cambiamento reale deve essere attuato nei territori perché noi parliamo di cambiamento ma poi il cambiamento vero lo subiscono o lo accettano i cittadini e quindi il tema è assolutamente culturale, noi lo vediamo in ogni situazione e io oggi torno a Pescara molto più tranquillo dopo aver ascoltato i ministri Salvini e Valditara perché Salvini ha parlato di questo rapporto stretto tra i sindaci e i dirigenti del Ministero per creare norme che poi si calano sul territorio in maniera concreta e Valditara ha parlato di bellezza delle strutture nelle scuole, negli asili nido quando la parola che noi ascoltiamo sui territori nel momento in cui andiamo a fare degli asili nido è cementificazione da parte di coloro che invece non vogliono che si realizzino strutture a fianco a casa perché questo sta succedendo sui territori, è un problema di educazione e di educazione ambientale. A Pescara noi facciamo educazione ambientale nelle scuole per 20.000 ragazzi perché i fondi che stanno arrivando in Europa si chiamano Next Generation Youth quindi sono rivolti alla prossima generazione e invece le contestazioni arrivano dalla nostra generazione che non vuole le piste ciclabili, che non vuole le corsie preferenziali, che non vuole gli asili nido sotto casa perché casomai hanno un piccolo spazio dove poter stare in tranquillità. E allora la rivoluzione dobbiamo attuarla concretamente facendo capire a tutti che ci troviamo in una fase emergenziale in cui i soldi che arrivano oggi non ci saranno domani per fare queste cose e le dobbiamo fare. Che cosa sta facendo Pescara? Intanto Pescara oltre al Pums ha già adottato il Biciplan che è fondamentale per creare una rete di piste ciclabili sul territorio. A Pescara oggi abbiamo 39 chilometri di piste ciclabili che corrispondono al doppio della media nazionale rispetto all'ampiezza del territorio. Nel 2023 ne realizzeremo altri 11 e arriveremo a 50 chilometri. Abbiamo previsto per il 2030 100 chilometri di piste ciclabili su 360 chilometri di strade. Quindi un terzo di strade di Pescara entro il 2030 sarà con piste ciclabili a disposizione dei cittadini. Abbiamo investito con il PNRR e con i fondi europei circa 7 milioni di euro per le piste ciclabili. Abbiamo realizzato tre ciclostazioni, una è già operativa e le altre due lo diventeranno nel 2023. 13 eco mobility point vicino alla fermata degli autobus in modo da poter fare uno scambio di mobilità con la mobilità leggera, la mobilità e like. Abbiamo lavorato molto sulla sharing mobility rivolta ai giovani, a coloro che in effetti usufruiscono di questi nuovi percorsi ambientali. In 30 mesi abbiamo avuto un milione e mezzo di viaggi, abbiamo percorso 8 milioni di chilometri e immesso nell'aria in meno 10 milioni di chili di CO2. Questi sono i risultati concreti che si toccano con mano, così come abbiamo realizzato quattro totem contabici che hanno conteggiato in sei mesi 600 mila passaggi. In tre giorni di giugno, dell'inizio di giugno, 13 mila passaggi solo in un contabici. Ed è chiaro che noi dobbiamo inserire tutto questo in una rete ciclabile che riguarda la regione, come diceva anche il sindaco Biondi. Abbiamo delle caratteristiche uniche ambientali, siamo la regione dei parchi, abbiamo la costa dei Trabocchi messa ben in evidenza dal Giro d'Italia. Delle caratteristiche che possiamo sfruttare con la mobilità ciclabile e dobbiamo muoverci in questa direzione. Grazie, grazie sindaco, grazie a tutti i partecipanti del panel.